Bandierine, sorrisi e lacrime di gioia. E' così che ieri la città di Bitonto ha festeggiato un risultato storico che celebrerà i cent'anni dell'USD Bitonto Calcio Storica, squadra cittadina, per la prima volta in Serie C. L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri dal Consiglio federale, che ha confermato la decisione della Lega Nazionale di Lettanti di promuovere tutte le squadre arrivate in vetta ai gironi di Serie D. Una vittoria che ha commosso anche le vecchie glorie che in quello storico Bitonto Calcio ci hanno giocato tanto tempo fa. E' una vittoria enorme. Questo stop non ha fatto altro che mettere in evidenza le forze di un campionato che ci aveva visti primeggiare da sempre. Permettetemi di dire un grazie, un grazie al presidente Rossiello. Una vittoria che porterà in città squadre blasonate che hanno gareggiato anche in Serie A e che a Bitonto non porteranno soltanto la loro notorietà. Ma porteranno insieme tante di quelle persone che gioveranno non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista economico e soprattutto potranno molti scoprire le bellezze della nostra città. Tutta la soddisfazione per la vittoria arriva anche dal rappresentante bitontino in consiglio regionale Domenico Damascelli. Questo obiettivo ci riempie d'orgoglio. Siamo fieri dei colori neroverdi e un istantaneo di gioia per l'intera comunità in un momento storico. Questo traguardo è stato raggiunto grazie all'impegno di chi ha lavorato dentro e fuori il rettangolo di gioco. Le mie più vive congratulazioni alla famiglia Rossiello, alla dirigenza, all'intero team del Bitonto Calcio per questo grande risultato. Adesso la città si è unita, si è il dodicesimo uomo in campo, pronta a sostenere, attifare con passione ed entusiasmo il Leoncelli. Intanto ieri il progettista ha già presentato 25 tavole per il progetto definitivo dello stadio Città degli Ulivi, che dovrà essere adeguato quanto prima affinché il Bitonto Calcio disputi la Serie C in casa. Il progetto è allo stato definitivo, quindi questa settimana dovremo approvarlo in giunta, secondo quello che mi ha detto il dirigente dei lavori pubblici. L'importo del progetto è importante. Tra lavori ab origine previsti e lavori necessari per l'adeguamento della Serie C, stiamo circa su un milione di euro. Peraltro abbiamo sempre la speranza fondata che ci venga concesso il tempo necessario, considerando tutti i blocchi dei mesi Covid. Se pensiamo che due anni fa chi fu promosso direttamente ebbe addirittura una proroga di un anno per adeguare l'impianto sportivo, cerchiamo anche di capire in che campo ci stiamo, tra virgolette, ci stiamo muovendo.